Imparare la cultura della legalità divertendosi è l'iniziativa dedicata a bambini e ragazzi del Campus WISP e dei Carabinieri Gruppo Cinofili di Bari. Quest'anno per la seconda volta l'Arma dei Carabinieri ci ha onorati della sua presenza attraverso il nucleo cinofili. Quindi attraverso il filtro dell'animale d'affezione, perché tutti i bambini sono attratti dall'animale di affezione, noi cerchiamo di portare esempi positivi ai ragazzi, che si innamorino degli esempi positivi, vale a dire quello che le forze dell'ordine fanno per combattere la criminalità quotidianamente, piuttosto che seguire esempi negativi che provengono oggigiorno dai social e che causano una pericolosissima dipendenza da internet. La dimostrazione ha visto come protagonisti i cani addestrati del gruppo, Rita di tre anni specializzata nella ricerca degli esplosivi e Quentin di otto anni e mezzo dell'antidroga. Tutti i passaggi dell'operazione sono stati spiegati dai cinofili con i bambini che al termine della dimostrazione si sono avvicinati per accarezzare i loro beniamini a quattro zampe. Si crea una relazione importante tra quelli che crescono, i ragazzini, che vengono da esperienze diverse dal sociale e una parte delle forze dell'ordine che svolgono un ruolo soprattutto di prevenzione e quindi in questa direzione va l'impegno che ci abbiamo messo per organizzare questo tipo di evento. Quindi la relazione fra corpi della società e naturalmente con alto valore pedagogico perché si vede dal vivo quello che è il lavoro che svolgono le forze dell'ordine.